Ben ritrovati, l'argomento di oggi è la guerra delle correnti, una rivalità e competizione tra corrente continua di Thomas Edison e corrente alternata di Nikola Tesla. La storia delle correnti elettriche, in particolari della corrente alternata e della corrente continua, è un racconto avvincente di scoperte scientifiche, innovazione tecnologica e trasformazione della società. Queste due forme fondamentali di elettricità hanno svolto un ruolo fondamentale nel plasmare il mondo moderno, dall'elettrificazione delle città allo sviluppo di inoverevoli dispositivi elettronici. Questo articolo approfondisce la fascinante storia della corrente alternata e continua, evidenziando le pietre miliari chiave e le persone che hanno aperto la strada al nostro mondo elettrificato. La storia inizia con l'avvento della corrente continua, sperimentata dallo scienziato italiano Alessandro Volta alla fine del XVIII secolo. Nel 1800 Volta creò la prima vera batteria, nota come pila voltaica, impilando strati alternati di dischi di zinco e rame, separati da cartone imbevuto. Questa invenzione ha segnato la nascita dell'elettricità corrente continua, producendo un flusso costante di elettroni in un'unica direzione. Il lavoro di Volta ha gettato le basi per i successivi progressi nella scienza elettrica, inclusi gli esperimenti rivoluzionari condotti da Michael Faraday. All'inizio del XIX secolo Faraday scoprì l'induzione elettromagnetica, un fenomeno cruciale per la generazione di elettricità. I suoi esperimenti portarono allo sviluppo dei primi generatori, che utilizzavano energia meccanica per produrre energia corrente continua. Sebbene la corrente continua fosse la forma dominante di elettricità nei primi anni, avevano i limiti in particolare nella trasmissione di energia su lunghe distanze. La svolta è arrivata con il lavoro dell'inventore serbo-americano Nikola Tesla e la sua difesa della corrente alternata. L'innovativo sistema corrente alternata di Tesla, basato su campi magnetici rotanti, ha consentito un'efficiente trasmissione di potenza su grandi distanze. Il sistema della corrente alternata di Tesla ha ottenuto riconoscimenti grazie alla sua collaborazione con George Westinghouse, che ha visto il potenziale dell'alimentazione della corrente alternata per una distribuzione capillare. Ciò portò alla famosa guerra delle correnti alla fine del XIX secolo. Una feroce rivalità tra Tesla e Thomas Edison, un sostenitore della corrente continua. Alla fine, la corrente alternata è emersa vittoriosa grazie alla sua capacità di trasmettere elettricità su lunghe distanze e a tensioni più elevate, rivoluzionando il modo in cui l'elettricità veniva generata e distribuita. Infatti, Nikola Tesla e Thomas Edison erano figure storiche coinvolte nella guerra delle correnti, che era una competizione tra i rispettivi sistemi elettrici, corrente continua e corrente alternata. Thomas Edison era un sostenitore dei sistemi elettrici a corrente continua. Credeva che la corrente continua fosse più sicura e affidabile per la distribuzione di elettricità su brevi distanze. La società di Edison ha costruito numerose centrali elettriche corrente continua e sistemi elettrici, inclusa la famosa stazione di Pearl Street a New York City. Nikola Tesla, dall'altra parte, ha sostenuto i sistemi elettrici in corrente alternata. Tesla credeva che la corrente alternata avesse diversi vantaggi rispetto alla corrente continua, in particolare in termini di capacità di essere facilmente trasportata in diversi tensioni, il che la rendeva più adatta alla trasmissione di elettricità a lunga distanza. Il sistema corrente alternata di Tesla prevedeva l'uso di trasformatori e ed era più che efficiente per la trasmissione di elettricità su grandi distanze. La guerra delle correnti si riferisce all'intensa rivalità e competizione tra i sistemi corrente continua di Edison e il sistema di corrente alternata di Tesla durante la fine del XIX secolo. Edison fece attivamente una campagna contro la corrente alternata, sostenendo che fosse pericoloso e arrivò persino a fulminare pubblicamente gli animali con la corrente alternata per dimostrarne i pericoli. Tesla e i suoi sostenitori sostenevano che la corrente alternata fosse più versatile e potesse essere trasmessa su distanze maggiori con una minore perdita di energia. In definitiva, l'adozione della corrente alternata su corrente continua è diventata lo standard per la distribuzione elettrica grazie alla sua efficienza nella trasmissione a lunga distanza. L'alimentazione corrente alternata poteva essere facilmente trasformata in diverse tensioni utilizzando trasformatori, rendendo possibile la trasmissione di elettricità per centinaia di miglia, il che era fondamentale per l'alimentare città e industria. Alla fine, il sistema corrente alternata di Tesla vinse grazie ai suoi vantaggi pratici e l'alimentazione corrente alternata divenne in balla base per la moderna rete elettrica che usiamo oggi. Sebbene ci fosse davvero una rivalità e una competizione tra Tesla e Edison, è importante notare che il conflitto riguardava principalmente la tecnologia e gli affari piuttosto che una lettera guerra tra i due individui. Il successo dell'alimentazione in corrente alternata ha gettato le basi per lo sviluppo di rete elettriche in grado di elettrificare intere città. Questa elettrificazione ha trasformato le industrie, le case e la vita quotidiana. L'illuminazione elettrica, i motori e gli elettrodomestici divennero un luogo comune e i paesaggi urbani furono illuminati dalla brillantezza dell'elettricità. Nel XX secolo l'alimentazione corrente alternata è diventato lo standard per la maggior parte delle applicazioni elettriche, mentre la corrente continua ha trovato nicchie in aree specializzate come batterie, elettronica e alcuni processi industriali. Tuttavia i progressi nell'elettronica di potenza e la necessità di un'efficiente trasmissione a lunga distanza hanno portato a un rinnovo interesse per i sistemi corrente continua ad alta tensione. Le moderne applicazioni della corrente alternata e continua sono vaste e diverse. La corrente alternata rimane la scelta principale per le abitazioni, aziende e industrie, mentre la corrente continua è parte integrante di tecnologie come sistemi di energia rinnovabile, pannelli solari, turbine eoliche, eccetera, accumulo di batteria, veicoli elettrici e dispositivi elettronici. Per concludere, la storia della corrente alternata e della corrente continua è una saga di ricerca scientifica, scoperte tecnologiche e competizioni vivace che hanno plasmato il corso della civiltà moderna. Dai primi esperimenti di Volta e Faraday all'epica resi dei conti tra Tesla e Edison. L'evoluzione delle correnti elettriche ci ha portato il potere di illuminare il nostro mondo, guidare le nostre macchine e connetterci in mondi che una volta erano inimmaginabili. L'eredità della corrente alternata e della corrente continua sopravvive, soprattutto continuando a potenziare la comunità globale e ad alimentare l'innovazione che guida il nostro futuro elettrificato.